buongiorno a tutti oggi troviamo nella riserva naturale regionale chiamata bettino di rosello che si trova in molise praticamente al confine con l'abruzzo e non molto lontano da roccaraso provincia di molise in provincia di sernia c'è una bellissima riserva che si possono fare tre belle escursioni un po' distante da roma però un posto molto bello la città per ora la roma la città la città la città la città la Grazie a tutti 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 Grazie a tutti